buongiorno ciclisti questa è la via appia antica l'antica via appia quella degli antichi romani tutto antico la regina via rum guardate sopra che ci hanno fatto ci hanno messo una bella striscia di cemento ci abbiamo tante quelle risorse economiche turismo natura però pensiamo bene di favorire le vecchie concezioni del mondo quelle basate sull'inquinamento vedete gli antichi romani ci andavano quei loro carri e noi dobbiamo asfaltarla questa strada perché altrimenti le macchine come fanno oggi e suv e poi li prendo la tremarella quindi la mia idea è quella di fare una corsa stile parigi robais sulla via appia antica togliendo questo manto stradale e dando nuova vita a questo glorioso passato se altrove riescono a fare delle corse monumento e a guadagnarci sopra su manti stradali simili a questo non vedo perché non potremmo farlo noi e dare anche la possibilità ai giovani di dare un loro impiego alla vita e avere un museo permanente utilizzabile come risorsa economica tutto l'anno sportivo e naturalistico c'è un po di tutto qui lungo la via appia la regina via rum del passato in fondo la nostra strada è già indicata dagli antichi romani ciao ciao